Ma quanto è buono questo rotolo di zucchine farcito. Prepariamolo insieme. Private le zucchine delle estremità inferiori e grattugiatele con una grattugia fuori larghi. Aggiungete il sale, lasciate riposare qualche minuto e poi strizzate con un canovaccio, eliminando quanta più acqua riuscite. Aggiungete il parmigiano, due uova, la ricotta, mescolate. Un po' di pan grattato, ricoprite una teglia con carta forno, ungetela leggermente e versatevi il composto. Livellate per bene, date ancora un filo d'olio e poi cuocete per circa 14 minuti a 180 gradi. Sfornate, coprite con carta forno un canovaccio, ribaltate, lasciate riposare e quando freddo distribuitevi sopra la ricotta, la rucola, un po' di insalata iceberg, un filo d'olio, scaglie di parmigiano, prosciutto crudo o speck, qualche goccia di glassa di aceto balsamico, arrotolate ancora, riponete in frigo per circa un'ora e trascorso il tempo non vi resta che affettarlo e portarlo in tavola. Vi assicuro che è semplicemente delizioso. Buon appetito! Mamma mia che buono!